Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un argomento che può sembrare banale ma che in realtà è molto complesso e affascinante. Che cos'è il marketing? Potreste pensare di saperlo ma vi assicuro che ci sono molte sfumature e dettagli che potrebbero sorprendervi. Vi invito a seguire questo episodio fino alla fine perché vi spiegherò anche la differenza tra marketing e comunicazione, tra marketing e pubblicità. Questi termini vengono spesso usati in modo intercambiabile ma in realtà rappresentano concetti distinti e importanti. Dire marketing e comunicazione non sono la stessa cosa come dire marketing e pubblicità. L'obiettivo di episodi come questo è fornire una definizione chiara e precisa di concetti fondamentali legati al marketing. Questo può essere utile sia per chi si avvicina a questi argomenti per la prima volta e si sente confuso sia per chi lavora nel settore da tanto tempo ma potrebbe non conoscere tutte quelle sfumature fra un concetto e l'altro. Negli ultimi anni il termine marketing ha acquisito in alcuni contesti una connotazione negativa. Quante volte avete sentito dire era solo una trovata di marketing o quel libro non mi è piaciuto era solo marketing. Spesso il marketing viene visto come qualcosa di manipolativo o ingannevole ma in realtà non è così. Allora, chi cos'è realmente il marketing? Per rispondere a questa domanda vedremo diverse definizioni poiché non esiste una sola definizione universalmente accettata. Ogni definizione può variare leggermente a seconda del punto di vista e dell'ambito di applicazione. Se volessimo partire da una definizione semplice letterale potremmo tradurre marketing con piazzare sul mercato. Questa è una traduzione sì un po' grezza ma ci dà l'idea di base. Tuttavia il concetto di marketing si è evoluto enormemente nel corso degli anni. Oggi il marketing non riguarda solo il piazzare un prodotto sul mercato ma comprende una vasta gamma di attività strategiche. Vediamo alcune definizioni più moderne e articolate per capire meglio di cosa stiamo parlando. L'American Marketing Association ad esempio definisce il marketing come l'attività di creazione, comunicazione, consegne e scambio di offerte che hanno valore per i clienti, i partner e le società. Questa definizione è particolarmente interessante perché mette insieme vari concetti chiave. La creazione di valore, la comunicazione, la consegna e lo scambio. E non solo per i clienti ma anche per i partner e la società in generale. Un'altra definizione interessante viene da Hochman, direttore di What's Next. Il marketing è tutto quello che un'azienda fa, da come si risponde al telefono, se lo fanno rapidamente, a come utilizzano le mail fino al modo in cui saldano le fatture. Inoltre riguarda anche il rapporto con i clienti. Il marketing non è una disciplina, un'attività, conclude. È tutto quello che un'impresa è o almeno tutto quello che fa se vuole avere successo. Una delle mie definizioni preferite è quella di Luca Vanin. Il marketing è la scienza e la di selezionare e comunicare le migliori informazioni utili al potenziale cliente per favorirne l'acquisto e la fidelizzazione. E ovviamente non possiamo dimenticare quella di Philip Kotler, uno dei padri del marketing moderno. Kotler definisce il marketing come la scienza e l'arte di creare, comunicare e offrire valore per soddisfare i bisogni del cliente e per fare un profitto. Questa definizione unisce la scienza e l'arte, enfatizzando il concetto di valore e la soddisfazione dei bisogni del cliente, con l'obiettivo finale ovviamente di andare a generare profitto. Voglio aggiungerne una quinta, un bonus, ed è la mia definizione. Il marketing è il processo che ci aiuta a trovare il match perfetto fra i prodotti e i servizi di un'azienda e i bisogni e i desideri del cliente. È l'intersezione fra quello che l'azienda offre e quello che i clienti desiderano. Ora, che abbiamo chiarito bene che cos'è il marketing, vediamo perché il marketing e comunicazione non sono la stessa cosa. Marketing e pubblicità non sono la stessa cosa. Spesso, anche in contesti lavorativi, ho sentito usare questi termini in modo intercambiabile, ma non lo sono affatto. Il marketing è un sistema di attività, una disciplina, un processo che include diverse azioni. La comunicazione è una delle quattro P del marketing. Product, price, place, promotion. La comunicazione include l'attività come la public relation, la produzione di contenuti, la definizione del tono di voce e la promozione a pagamento. La pubblicità, invece, è un sottinsieme della comunicazione. È l'attività di coinvolgere un soggetto terzo per far arrivare il messaggio dell'azienda al pubblico. Spesso attraverso canali a pagamento come tv, radio, giornali, piattaforme digitali come Facebook, Twitter, LinkedIn. In sintesi, il marketing è quel grande cerchio che include tutte le attività per far incontrare i prodotti e i servizi di un'azienda con i bisogni del cliente. All'interno del marketing c'è la comunicazione e all'interno della comunicazione c'è la pubblicità. Per chiarire ulteriormente, ad esempio, immaginate il marketing come se fosse un grande puzzle. La pubblicità è uno dei pezzi di questo puzzle, così come la comunicazione. Ogni pezzo ha il suo ruolo e la sua importanza, ma è l'insieme che fa funzionare tutto. Grazie mille per aver seguito questo episodio fino alla fine e questo è tutto per oggi. Spero che questi concetti vi abbiano aiutato a comprendere meglio che cos'è il marketing e perché è così fondamentale per la vostra azienda. Se avete trovato utile questo video lasciate come sempre un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Non dimenticate ovviamente di attivare la campanella qui sotto per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Se avete domande, suggerimenti o argomenti che vorreste vedere trattati lasciate un commento qui sotto. Sono sempre felice di leggere e rispondere ai vostri feedback. E ricordate potete seguirmi anche su tanti altri social media, aggiungermi su LinkedIn per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità.